salve a tutti quanti oggi voglio fare uno sperimento installare microsoft office professionale plus versione 2013 a un mio carissimo amico che è distante molto distante e lo faccio in remoto ovvero sia io sono già connesso con il suo pc tramite amidesc è un programma appositamente per i collegamenti rimoti come vedete sotto questa cartella dove io ho già preparato i file di trasferimento questo è il pc remoto spostiamo un attimo la schermata così vediamo meglio e adesso provo a fare i trasferimenti dei file allora il primo trasferimento è questo programmino n d p 4 e 52 che è un programma che bisogna installare prima ancora di installare il setup di word adesso faccio copia e poi lo vado incollare di qua incolla e lui adesso sta facendo il trasferimento poi dopo questo trasferimento che faccio devo trasferire l'aggiornamento ovvero sia il crack dell'aggiornamento perché questo vede l'aggiornamento e se tu lo fai normalmente e ti viene fuori che poi devi comprarlo allora con questo crack che poi vediamo e vi metterò poi tutto in sopra impressione i nomi fai l'aggiornamento senza pagare adesso copiamo anche questo questa cartella la copiamo copia adesso tendiamo un attimino che faccia tutto il suo percorso la cosa è leggermente un po' lunga perché essendo in remoto e purtroppo è così attendiamo il termine finito adesso copiamo il kms 360 incolla ecco ha terminato io ho già copiato tutta la cartella del setup e adesso la incollo e adesso la incollo mettiamo in ordine così così li facciamo ripartire in sequenza perché questi vanno messi in sequenza se no non si può installare word ecco terminato il trasferimento di tutti i fai necessari per installarlo adesso adesso chiudiamo un po' di finestre e ingrandiamo la finestra remota la mia non mi interessa più procediamo a installare il primo file che si chiama l'MDP 452 che è questo qua che l'ho messo per primo passiamo all'installazione diciamo di sì attendiamo l'installazione remota che termini perché senza questo file il setup di microsoft word non funziona perfetto e a questo punto visto che ha terminato chiudiamo adesso andiamo nella cartella di setup di microsoft word professional plus 2013 facciamo uno scroll in basso e andiamo a cliccare setup sempre gli diciamo di sì accettiamo le condizioni accettiamo le condizioni chiudiamo un attimo la finestra dietro e gli diciamo installa attendiamo sempre il termine dell'installazione visto che è remota ci va un po' di tempo adesso sta facendo il completamento dell'installazione siamo quasi al termine una volta installato word lui non mi mette le icone sul desktop e noi le andiamo a tirarle fuori andiamo su l'hard disk di windows 10 andiamo su programmi andiamo sulla cartella microsoft office poi andiamo su office 15 facciamo uno scroll in basso e andiamo a cercare l'excel eccolo qua è il primo clicchiamo con il tasto del mouse destro andiamo su invia a desktop word desktop fatto questo li mettiamo in ordine li mettiamo in ordine li mettiamo qua che si vedono bene adesso per fare l'aggiornamento bisogna disattivare l'antivirus se no se no non si può fare l'aggiornamento con questo cracker qua vediamo se l'ho disattivato apriamo il KMS 360 lo facciamo partire attendiamo attendiamo ecco viene fuori adesso viene fuori la clessidra la clessidra finito la clessidra dobbiamo andare cliccare su office qua mi dice che l'ho già attivato fino a qua viene fuori verifica e attivazione qua adesso mi dice che è attivato perciò si è attivato bene adesso andiamo a vedere office chiudiamo andiamo su Excel qui ci sono tutte le cartelle di Excel ne apriamo una chiudiamo andiamo su Word diciamo di sì non visualizzare più sì ok e qui c'è tutto Word questo è Word chiudiamo con questo io ho terminato l'installazione remoto dopo dipende dall'operatore dall'altra parte cosa vuole fare spero che questo tutorial vi sia servito e vi ringrazio ciao ciao grazie